sto lavorando per proporre cartra ai miei clienti e avrò bisogno del tuo supporto in fase iniziale ma benvenga questo supporto iniziale allora di che stiamo parlando stiamo parlando del supporto per arrivare a diventare affiliato cartra ora per chi non lo sa io sono un affiliato cartra per questo propongo di provare carta con mio link ma volendo anche tu può diventare un affiliato cartra soprattutto se lo fai con il mio link io divento un jv cioè sarebbe a dire che io guadagno molto meno ma continuo a guadagnare da carta e questo magari ti può essere utile perché io posso facilitarti la curva di apprendimento lo stessa cosa che faccio durante la live di la live scusami la live la colla di orientamento posso facilitarti l'apprendimento perché ti evito di vivere gli stessi errori che io possa aver vissuto in passato per cui se vuoi per diventare affiliato di carta passando cercando il mio supporto vai su stefano benvenuti punto com affiliato e direttamente puoi affiliarti cioè vai su stefano benvenuti slash affiliato e qua clicchi su affiliato quindi rispondi clicchi qua quando clicchi vai nella pagina di cartra affiliati app ora probabilmente a me non me lo fa fare perché vede che sono già affiliato ok accetto i termini e condizioni e condizioni access to your account ok perché già ci sono un affiliato vabbè però se non fossi affiliato ma avrebbe se non fossi affiliato mi avrebbe proposto di fare alcune azioni quali azioni allora devi rispondere a un questionario devi rispondere a domande del tipo perché vuoi diventare affiliato come promuoverai l'affiliazione di carta è importante che loro lo sanno non a tutti la danno l'affiliazione quindi non a tutti la danno e non è che solo perché la chiedi la ricevi se secondo loro non hai risposto in modo efficace o vuoi magari utilizzare carta quasi per spammare andando a ledere l'immagine di carta non la danno non la danno l'affiliazione per cui questa cosa è utile da sapere perché carta prende molto sul serio quelli che sono i loro affiliati offre un supporto dedicato nel customer support nei ticket che offre da della formazione personalizzata tramite il gruppo di genesis l'azienda di cartra e quindi secondo me vale la pena farlo anche perché il motivo per cui io lo faccio è perché c'è un assoluto rispetto è un apprezzamento di carta come strumento ma poi c'è anche un guadagno secondo il 40 per cento di quello che le persone spendono per i clienti non varia il prezzo ma carta decide anziché di farsi pubblicità con canali normali di farlo attraverso gli affiliati ok per diventare affiliato quindi vai alla pagina di carta vai su stefano benvenuti punto com slash affiliato come puoi promuovere il mio suggerimento per promuoverlo è uno usa carta per la tua attività cioè usare carta per la propria attività è secondo me necessario anche perché la domanda che io farei a chi mi promuove carta e ma tu lo usi si lo usa come quando vai da un venditore di macchine ti propone di comprare una marca e poi lui guida un'altra marca è incoerente per cui usare carta per la propria attività è secondo me il primo modo per promuoverlo secondo offre il tuo supporto a chi ne ha bisogno quando le persone ti chiedono supporto ebbene offrirlo per cui devi anche saperlo usare carta per essere affiliato di carta stesso puoi fare delle live come faccio io puoi creare un gruppo su facebook può creare un canale puoi dare supporto in diversi modi crea contenuti verticali ecco io la cosa che ho notato che nel momento in cui ho iniziato a offrire supporto per chi deve creare corsi su carta mi sono reso conto che quello è una funzione una verticalizzazione delle funzioni di carta che trova comunque interesse in un pubblico specifico c'è chi offre supporto per i coach che ci offre supporto per chi ha palestre c'è chi offre supporto per i dentisti diversi funzioni diversi verticalizzazioni che possono essere sulle funzioni possono essere sui settori sulle categorie ma creare contenuti verticali è sicuramente un modo per promuovere carta in modo efficace iscriviti ai gruppi per affiliati di carta sono su facebook nel momento in cui richiedi l'affiliazione verrai a conoscenza di questi gruppi e richiedendone l'affiliazione richiedendo nell'iscrizione potrai leggere anche informazioni inoltre crea un canale di comunicazione che sia un gruppo che sia un podcast che sia un canale di video su youtube che sia una pagina su facebook che sia un canale di tiktok che sia quello che sia crea un canale unico scrivi un libro non lo so cioè crea un canale di comunicazione che tu gestisci direttamente soprattutto nelle logiche di carta ma nelle logiche dell'affiliazione dell'affiliation marketing come viene chiamato quello che è importante è esserne o il primo a parlarne o esserne essere l'ultimo il primo a parlarne perché se tu fai scoprire qualcosa a qualcuno bene gli stai dando un'utile informazione se sei l'ultimo a parlarne sei la persona che converte il suo interesse in un'iscrizione magari per questo poi verrai ricompensato da carta per cui o sei il primo o sei l'ultimo questo che cosa significa che se ancora non lo stai facendo adesso è il momento di iniziare a farlo immediatamente siete qualcuno oltre me è affiliato a carta qualcuno forse sì se non lo sei anche se non ha intenzione di farlo subito il mio suggerimento è iscriviti all'affiliazione ti chiedi l'affiliazione a carta perché magari possono impiegare qualche giorno per rispondere ok se sei in mezzo non guadagni cioè sarebbe a dire se qualcuno se tu una persona si si tu proponi a qualcuno andare sulla pagina poi qualcun altro lo propone dopo di te i cookies memorizzati da carta saranno dell'ultima pagina ok per cui non sei tu che guadagni come l'altra persona